Ciao, sono Rosaria, titolare di Clos Special Store. In store ci sono tutti i brand made in Italy. Rinascimento, Selin, Fresh & Luxury, Morgan, Kitana, disponibile fino alla taglia 54, Edas, disponibile sempre fino alla taglia 54, Calissa, disponibile fino alla taglia 54, Genes, Agida, T-Way, Overview, Calvo dei testi, Viene e Unici, Arbiti, Cerimonia, Unici, Agida, Alta fine, uomo-donna, santa e santa un pozzo, Agida e soccone. Mi resta che termini la nostra pagina. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie a tutti